Questo che ha detto, a me non me ne frega un cazzo! Bene, bene, diciamo che mi ero un po' deluso Richard, perché il rock è sinonimo di sincerità, mentre tu ci stai raccontando un infinito di cazzate. L'altro giorno ho trovato il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. È possibile? Cosa hai trovato? Il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. Non è possibile? Stai raccontando un mare di cazzate? È possibile? E poi chissà perché il tuo DVD non si trova nemmeno online. Il mio DVD non si trova online perché è dotato di una membrana speciale con cellula fotoelettrica che non si può inserire. E' addirittura... Guarda, le cose le decido io. Tu stai dicendo un mare di cazzate? E' addirittura che è andato. Vattene a fanculo per cortesia. In tabaccheria non esiste nulla di niente ed è stata una mia decisione. Non farlo inserire su internet. Non avere immagini amatoriali con internet. Vuoi vedere i miei contratti con la Sony? Sono decine e decine di fogli che ho firmato. Se non ci credi, senti. Hanno telefonato da Portland, hanno telefonato da Vancouver, mi hanno tutti visto in concerto. La città mi ha pegliato il culo. Ma batte l'affanculo brutto froso! Schifoso! Brutto froso! Schifoso! Allora, a quel punto, feci poi un gruppo mio, diciamo, per rock blues, di quegli anni, e veniva sempre sto ragazzino accompagnato dal padre. Al papà! Hai capito? E' il papà, sei bravo. Ha sbagliato, coglione! No, no, c'è il papà. Mi chiedevo se mi avevi rotto anche gli occhiali, no? Lo mettevo in conto, no? Lo mettevo nel conteggio di tutto quello che mi è stato sfasciato stasera. Quanto sto cazzo! Che dici, Fabrizio? Lunedì verrà gente, la stessa gente? E' il papà! 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 L'unodio vengono gli altri, vengono gli altri, dice. L'unodio vengono gli altri. L'unodio vengono gli altri. L'unodio vengono gli altri. Lui non lo sa, dire sono meglio o sono vecchi. Sono vecchi! E lui? Noi siamo di meglio! Potrebbero essere pure vecchi. Ma che cazzo sta? Con quello che ho visto a Milano e a Napoli, quando ho fatto la serata a Napoli, per poco non mi ammazzavano. Allora, dico, sì, i coglioni stanno là, capito? Non stanno nella mia testa. Nella mia testa ci sta un cervello... Per cazzo! Ci sta un cervello lucido, se permettete. E' l'unica cosa che mi è rimasta. Ma che merda! Non c'è la merda! Sì, c'è pure la merda, hai ragione. E' la malucca! Sì, c'è ragione, ci vuole questo. Nei lunori c'è la sfora, amore mio mio! C'è la sfora che ci uscita, cazzo! La cosa che a me fa morire dalle risate è che voi pensate che io mi offendo in qualche maniera. Io mi dico... Che succede? Ciao, che cazzo! Che cazzo, che cazzo! Io non mi... Proprio non sento... Mi sono fan tua, Ricciardo. Eh, quella è la Piazza Vecchia, no? Ah, quella è la Piazza Vecchia? Ma perché sta così lontano la Piazza Vecchia? Io mi volevo vicino a me. Che succede che stanno avvienti a croci? No, loro non sono croci, loro sono cari ragazzi. Racconto, c'è la storia di Marley Manson! Allora, vi ho detto, veniva sto padre, con sto ragazzino, alto, bianco e basso. Allo striscione, che c'è scritto su quello striscione? Con sangue umano, l'hanno scritto, eh? L'hanno scritto con sangue umano, grazie per la birra, era molto buona, ma no. Questa era l'acqua. Questa era l'acqua di Cristo, questa era l'acqua di Lourdes. Hai capito? Loro sono molto carini, perché loro vanno fino a Lourdes. Mi prendono l'acqua della Madonna, nella speranza che riprendo la gamba. Capito? Allora, me la buttano addosso, l'acqua di Lourdes, così me la bevo e cammino meglio. Capito? E sono veramente delle persone eccezionali. E che la gente non lo capisce questo, non arriva a capire che sono stati, hanno fatto un viaggio fino a Lourdes. No ragazzi, così no, cioè, non scheraviamo. No ragazzi, così no, cioè, non scheraviamo, dai. Allora, mi hanno tirato una cosa che mi ha fatto. Voi pensate che mi ha fatto male, a me non mi ha fatto cazzo. Allora, mi ha fatto male, a me non mi ha fatto male, a me non mi ha fatto male, a me non mi ha fatto male. Allora, mi ha fatto male. Allora, mi ha fatto male. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.